Devo dire che abbiamo fatto una serie di attività abbastanza impegnative sia nel 2017 e sia quest'anno nel 2018. A parte tutti i progetti che abbiamo fatto, il progetto COPS di orientamento di preparazione sportiva nelle scuole primarie, poi abbiamo iniziato a fare altri tipi di attività. Un'attività che è in programma adesso è, questa la chiameremo Sport in Fiera, che avverrà il 25, 26, 27 maggio con il Comune della Spezia. Le istituzioni ci sono molto vicine, la verità, e praticamente sarà l'inaugurazione del centro sportivo a montagna che è ritornato finalmente alla nostra città. Senza però trascurare quello che è stato prima, che la Marina Militare ha sempre tenuto in ordine il centro sportivo Marina Militare, Alfonso Montagna. Abbiamo anche altre attività da fare, poi per quanto riguarda il secondo semestre faremo Family Day, faremo giochi senza quartiere, tutti i progetti coni. E per la prima volta quest'anno l'Educamp, che si svolgerà nella bellissima località di Lerici, abbiamo scelto come location il circolo tennis Lerici. Quasi tutte le società sportive di Lerici ci hanno dato l'adesione, sia l'Eric Sport, sia il golfo del club Marigola, sia la pallacanestro, il calcio, la canoa, la vela. Quindi i bambini che verranno a fare l'Educamp proveranno tutte queste attività. Un'attività intensa, importante. La novità è questa grande festa di sport dal 25 al 27 maggio, state iniziando a mettere insieme tante attività. Sarà davvero un'altra giorni ricca? Noi speriamo. Abbiamo coinvolto un po' tutti, dalle società sportive, ai delegati di federazione, alle associazioni, alla Marina Militare, all'Aeronautica, un po' tutti. Diciamo che è il primo evento che avviene dopo tanti anni al Centro Sportivo Montagna e che sarà aperto per la prima volta dalla mattina a mezzanotte, alla notte profonda. In quanto si faranno non solo attività sportive ma anche attività di altro tipo. Sarà una promozione per lo sport ma verranno fatte anche attività agonistiche perché è giusto che sia, perché lo sport non è solo attività promozionale ma è anche agonismo soprattutto. Per il momento c'è stata una tantissima adesione da parte delle società, di quasi tutti gli sport e quindi confidiamo gravatamente con l'assessore allo sport Lorenzo Broggi di continuare a programmare nel migliore dei modi queste tre giorni. Che molto probabilmente chiameremo sport in fiera. Grazie.